Sono un po' imbarazzato, nel senso che non so se noi abbiamo delle cose particolarmente interessanti da dirvi, lo ammetto con molta schiettezza, schiettezza per schiettezza, tanto vale dirselo, insomma, che sì, è vero, siamo dei narratori e di questo ci occupiamo, è anche vero che ovviamente questo, inteso come movimento studentesco, nella sua specificità lo guardiamo da fuori, nessuno di noi è più studente e nemmeno gira troppo attorno all'università. Io e Giovanni in effetti teniamo un corso di teoria e pratica della narrazione a Pesaro come docenti a contratto, anche se non ci hanno ancora mai pagati, aspettiamo però fiduciosi, però a parte questa che è una cosa abbastanza estemporanea, effettivamente abbiamo una certa età. Ora, secondo me il primo problema è lo sguardo dall'esterno e quindi a me piacerebbe molto di più ascoltare, in realtà, già qualcosa ho sentito, ma in questi giorni fondamentalmente sto addocchiando e leggendo cose in giro per la rete, insomma, comunicati, comunicazioni di vario genere e grado, riflessioni dopo il 14, eccetera, eccetera. Ho letto, ad esempio, una lettera molto bella di uno di voi, di Paolo Lavalle, in risposta alla lettera agli studenti di Roberto Saviano. Devo dire che se io avessi dovuto cercare le parole, i toni, i modi, insomma, per rispondere a Roberto Saviano non sarei riuscito a trovarli così efficaci, perlomeno. C'è una cosa però che mi sento di fare, cioè chiederle in prestito a qualcun altro, perché credo che comunque uno dei problemi appunto sia lo sguardo dall'esterno e il tipo di pressioni a cui un movimento più o meno nascente può essere sottoposto, perché inevitabilmente comunque il confronto con quello che c'è fuori sarà ed è inevitabile. Le parole in risposta a Saviano che, tanto per capirci, insomma, io considero un amico, ecco, ma che, insomma, quando gli amici dicono delle cose che uno condivide è giusto digliele in faccia, ecco, in maniera molto, molto schetta. Beh, le parole le chiedo in prestito a un vecchio poeta inglese, Robert Graves. Vecchio come vecchia è la poesia che vi leggo, molto breve, tranquilli, non vi tedierò. Scusate, che si intitola In Broken Images, immagini frammentarie, spezzate, e la vorrei dedicare appunto a Roberto, nonché ovviamente a me stesso, a voi, e fa così. Quindi, lui è rapido, pensa per immagini esatte, io sono lento, penso per frammenti di immagini. Fidando nelle sue immagini esatte, lui diviene ottuso. Diffidando delle mie immagini frammentarie, io divengo acuto. Fidando nelle sue immagini, lui le crede rilevanti. Diffidando delle mie immagini, io dubito della loro rilevanza. Presumendo le rilevanti, lui si fonda sui fatti. Diffidando delle mie immagini, dubitando, perdonate, la loro rilevanza, io dubito dei fatti. Quando i fatti gli sfuggono, lui dubita dei propri sensi. Quando i fatti mi sfuggono, io approvo i miei sensi. Lui procede rapido e ottuso nelle sue immagini esatte. Io procedo lento e acuto nelle mie immagini frante. Lui, in una nuova confusione del suo giudizio. Io, in una nuova comprensione della mia confusione. Ovviamente, gli applausi al vecchio Graves. Era questo per dire che tutto quello che mi sento di poter fare è provare ad ascoltare e a ragionare, a comprendere un po' meglio la mia confusione. Perché, una cosa sia chiara, nonostante noi abbiamo magari qualche anno in più di molti di voi, di sicuro non siamo né più saggi né più lucidi di voi. Questo è poco, ma sicuro. E quindi, questa poesiola, come dire, la vorrei dedicare in generale a tutti i grilli parlanti. Non ha uno solo, questo è forse il più visibile, ma ce ne sono parecchi che si stanno, in qualche modo, accodando al coro e che guardano le cose dall'esterno e non ascoltano. C'è proprio un problema di sordità, che personalmente mi preoccupa molto. Dico queste cose quasi in una forma di outing, ecco. Sono le impressioni che io ho avuto in questi giorni, in particolare che ho avuto il 14. C'è una cosa che mi ha molto impressionato. Non sono stati gli scontri e nemmeno quello che è successo in Parlamento. In un certo senso mi aspettavo, potevo aspettarmi entrambe le cose. Diciamo che quello che mi ha impressionato di più è quello che ci sta in mezzo a questi due eventi. Tra la strada e il palazzo. C'è un vuoto, una sorta di camera iperbarica silenziosa. Questo mi ha preoccupato e spaventato, ve lo dico appunto perché non sono qui a disegnare un soldo dell'avvenire qua sul muro. Anzi, credo che si preparino tempi cupi. Sincerità per sincerità. Sì, mi ha preoccupato. Mi ha preoccupato perché dopo i riot a Londra, il Partito Liberal Democratico si è spaccato in due. Nick Clegg ha proseguito per la sua strada. Il Presidente del Partito si è astenuto sulla riforma universitaria. E una serie di deputati sono stati proprio contrari. 20, 22. I più giovani. Credo che non sia un caso, i più giovani. Nel senso che, probabilmente quelli che non sono usciti da tanti anni dall'università. E che forse un piccolo ragionamento se lo sono fatto su che cosa sarebbe successo alle loro vite se qualche anno prima quella riforma fosse entrata in vigore. Cosa tra l'altro più che plausibile sotto il regno bleeriano. Visto che le riforme sono cominciate. Riforme, se fa per dire. Con lui. Ecco, la cosa che, l'elemento di differenza, visto che ogni paese, ogni contesto fa storia a sé, credo che vada sottolineato. Almeno a me è saltato agli occhi. Quel Parlamento, intendo la House of Parliament, nonostante la Gran Bretagna non sia certo un paese messo meglio dell'Italia, nessuna anglofilia in questo senso, anche se alle volte qualcuno mi accusa, per i miei gusti letterari, di esserlo anglofilo, ma vi garantisco che non sono di quelli che vedono l'erba sempre più verde, oltre manica. Tuttavia, quel Parlamento evidentemente ha dimostrato di avere ancora almeno un piede, o mezzo piede, nella società reale. Perché quella frattura si è prodotta. Ora, sia chiaro, io non è che sono uno di quelli, come credo nessuno di noi, che ha una grande speranza, o che idealizzerebbe più di tanto la democrazia liberale, sappiamo benissimo quali sono i suoi limiti, eccetera, eccetera. Però, appunto, cerco di leggere un dato, cerco di leggere quello che accade. E a Roma non è successo questo. A Roma, mentre fuori succedeva di tutto, in strada, nelle piazze, eccetera, mentre la società reale si manifestava, dentro il mercato delle vacche è continuato totalmente indisturbato, come se nulla fosse. Come se quel palazzo fosse su un altro pianeta. Noi non possiamo non registrare questo dato. Almeno io ho avuto qualche brivido. ripeto, non per il mercato delle vacche in sé, assolutamente prevedibile, ma per questa, diciamo, camera stagna, ecco, questa totale alterità che mi spaventa. Mi spaventa perché, per due ordini di motivi. Il primo è che questo potere, in questo momento, è appeso a un filo di bava, è riuscito a sfangarla per un filo di bava, questo governo, e quelli che stanno appesi a un filo di bava, come dire, sono abbastanza imprevedibili e mi preoccupano. Ieri sera ho sentito la russa inacciare gli studenti della sapienza. Se volesse la polizia vi spazzerebbe via in due minuti, in due minuti, in due minuti, l'ha ripetuto più volte, no? Cioè, della serie, più chiaro di così. è un fascista, è un ministro della Repubblica, e sta lì, appeso al suo filetto di bava. Non solo. Il mercato delle vacche di qui sopra è ormai totalmente scoperto, esattamente come erano scoperti in precedenza tutti gli interessi economici, imprenditoriali, della gang al potere, o fin anche addirittura, insomma dire, gli usi e i costumi sessuali del Presidente del Consiglio. Tutto è alla luce del sole. Cioè, mi sembra che ci ritroviamo di fronte a un potere che non ha più bisogno, non sente più la necessità di salvare nessuna apparenza, nemmeno un briciolo di apparenza. Non ha più nemmeno bisogno dell'ipocrisia, non so come dire. Si autodichiara, si esplicita totalmente. In che senso? Anche noi però. No, certo. No, no, sto guardando uno dei corni del problema, ripeto, sono assolutamente riflessioni in libertà le mie. si autoesplicita completamente. Del resto non è che quelli che si vorrebbero in qualche modo sostituire alla ganga al momento in sella siano meno spaventati da quello che succede fuori, dalla società reale, dal dissesto sociale dilagante. a me sembrano altrettanto terrorizzati. sì, è vero, abbiamo visto che il PD, se non sbaglio, ha fatto un'interpellanza parlamentare sugli infiltrati. Gli infiltrati. è sempre un fattore esterno. C'è sempre qualcuno che arriva da fuori, un losco figuro, che arriva da fuori e scatena gli eventi. Non è mai il reale, non è mai la società reale, non è mai il conflitto che si manifesta, non è mai la frustrazione, l'incazzatura, la rabbia, è qualcun altro. È qualcuno che si infiltra e rompe le uova nel paniere. Che poi voglio dire che gli infiltrati ci siano, lo sappiamo dalle calende greche, ero a Genova nel 2001, figuratevi se, ma non è questo il punto, ovviamente. C'è ancora un rifiuto di vedere, un rifiuto di ascoltare, sordità manifesta, che nasce dalla paura, secondo me, paura totale del cambiamento. Leggo il terrore negli occhi di questi qua. Paura del cambiamento che, come dire, si esplicita anche nelle scelte immediatamente conseguenti a quello che è successo dentro il palazzo il 14. Qualche mese fa feci una scommessa con me stesso, come profeta, non valgo un cazzo, ma insomma... Feci una scommessa con me stesso, disse, secondo me, le primarie, avendola, non gliele fanno fare. E infatti non gliele fanno fare. Oggi la notizia è ufficiale, praticamente. a prescindere da quello che uno può pensare, voglio dire, della OPA lanciata dentro il PD, eccetera, 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 non me ne frega un cazzo. Però, cioè, che anche... Cioè, sono sempre stato convinto, insomma, che Bersani e D'Alema, piuttosto che farsi fare da leader avendola, si sarebbero... Insomma, avrebbero riempito di tritolo la barca di D'Alema e l'avrebbero lanciata nel porto di Gallipoli. Ecco, non ci ho mai creduto, ecco. E quindi, certo, Bersani oggi la dice alla bolshevica, scusate, alla... non alla bolshevica, alla sovietica dei tempi cupi, e dice le primarie vanno riformate, come l'università. La riforma. In questo paese riforma, sappiamo cosa significa, appunto. e non solo a livello nazionale, perché appunto bisogna fare l'alleanza col terzo polo e quindi vendola a quelli non lo vogliono. Dice anche a livello amministrativo non va più bene. Perché? Perché il cambiamento, qualunque esso sia, anche minimale, anche di fatto, dissolve il partito, sgretola il partito, no? E quindi questo matrimonio non sa da fare. Mi fa ridere tutto questo ma mi inquieta anche. Ve lo dico spassionatamente. Non tanto perché, come dire, ripeto, io pensi che dalla sponda istituzionale possa venire chissà quale interlocutore. Non ci credo. Però la sordità e l'ottusità di un potere terrorizzato, appeso a un filo di bava, immobile, diciamo che è un problema che secondo me un movimento comunque che vuole tenere le strade e le piazze si deve porre, secondo me, in maniera oculata. C'era, io ho letto un po' di cose che il movimento ha scritto, insomma, un po' di comunicati, riflessioni, dicevo all'inizio, e quindi mi hanno fatto venire in mente delle cose. Di mio non ho, dicevo, nulla di particolare da dire, da affermare. Cerco di capire quali sono gli input che vengono a me da voi. Quello che ho letto, ad esempio, e che è stato ripreso adesso nell'introduzione, cioè su come andare oltre, sul fatto che appunto il problema non è in sé per sé il conflitto di strada, ma appunto come andare oltre la jacquerie, si diceva. Quello che ho letto, ad esempio, oggi, anche sul blog di Hu Ming, su cui alcuni hanno voluto intervenire, mi fa pensare le parole di un vecchio rivoluzionario francese, anzi, un giovane rivoluzionario francese, Louis de Saint-Just, perché morì giovane, il quale diceva che si lotta sempre per ciò che si ama e combattere per tutti non è che una conseguenza di questo. Ho letto cose analoghe, diciamo, in questi giorni che, devo dire, mi fanno anche ben sperare, insomma, mi fanno capire che molto probabilmente siete più luci di voi, di noi. Saint-Just diceva anche che la rozzezza è una forma di resistenza all'oppressione e che quando ce vo ce vo ma la dolcezza è compagna della fierezza dell'uomo libero. Da lì ho capito che tra l'altro la famosa frase di Che Guevara bisogna essere duri senza perdere la tenerezza in realtà era una citazione e non me ne ero mai accorto, era una citazione da questo signore qua, un tizio che ha anche scritto una cosa che io non condivido l'ha anche rispettata coerentemente quindi lo rispetto per questo Saint-Just disse tocca al più giovane morire per dimostrare la propria virtù e il proprio coraggio in effetti lui salì alla ghigliottina 27 anni io sì, non sono d'accordo cioè credo che credo che il coraggio sempre e comunque sia affrontare l'idea di un'uscita finale e di una fine che questo ogni volta che c'è un conflitto vada messo in conto però la morte è soprattutto qualche cosa di simbolico ecco per me quello che conta ovviamente è la vita e credo che almeno questo ho letto nelle vostre parole è per quello che si lotta c'è un c'è un a questo proposito è inevitabile che a quelli di noi che a Genova c'erano e tra l'altro dicevamo prima meno male che c'è stata Roma così smetteremo di parlare di Genova finalmente si va si parlerà di qualcos'altro ci saranno altri reduci questo significa sicuramente che noi ci sentiamo un po' più vecchi però come dire è chiaro che essere passati da quell'esperienza là e sappiamo tutti insomma il portato pesante anche di quell'esperienza fa sì che come dire una preoccupazione inevitabilmente io me la ponga devo dire che ho trovato soltanto nelle parole di una di una scrittrice per ragazzi sono uno di letture semplici vedete non sono un grande scrittore nelle parole di una scrittrice per ragazzi in un libro che effettivamente potrebbe essere usato anche come oggetto contundente perché questo Harry Potter è 700 pagine se te lo tiro in testa ti fa male ma se me lo metto qui potrebbe anche fermare un proiettile come nei film western di Sergio Leone ho trovato due o tre capoversi sono le parole di uno dei miei mentori letterari ridete tranquillamente si chiama Albus Percival Dumbledore meglio noto come Albus Silente preside della scuola di magia di stregoneria e arti magiche di Hogwarts sì lo so che suona ridicolo ma non me ne frega niente ho trovato queste parole che vengono pronunciate da Silente all'indomani della morte di un giovane studente della scuola quando ormai si profila appunto un certo tipo di scenario questo studente si chiama Cedric Diggory ma penso che potrebbe chiamarsi anche Carlo Giuliani insomma dice l'abilità di Voldemort nel seminare discordia e inimicizia è molto grande possiamo combatterla solo mostrando un legame altrettanto forte di amicizia e fiducia le differenze di abitudini e linguaggio non sono nulla se i nostri scopi sono gli stessi e i nostri cuori sono aperti è mia convinzione e non ho mai desiderato tanto di sbagliarmi che stiamo tutti per affrontare tempi oscuri e difficili alcuni di voi in questa sala hanno già subito terribili sofferenze a opera di Voldemort molte delle vostre famiglie sono state distrutte una settimana fa uno studente ci è stato portato via ricordatevi di Cedric quando e se per voi dovesse venire il momento di scegliere tra ciò che è giusto e ciò che è facile ricordate cos'è accaduto a un ragazzo che era buono e gentile e coraggioso per aver attraversato il cammino di Voldemort ricordatevi di Cedric Diggory e aggiungo insomma teniamocela stretta sta vita e lottiamo per per essa ecco perché non ce ne hanno data una di riserva che c'è che c'è che c'è che c'è